Siamo a Castel San Pietro Romano, guardate questo masso, un tempo doveva essere parte del muro poligonale che qui giaceva e che oggi non esiste più, ovviamente smantellato per la realizzazione dell'abitato, sia qui sotto, diciamo che in alto dove sta proprio il paese di origine medievale probabilmente. Questo è un muro che sta anche cadendo tra l'altro, realizzato con ciotoli, forse le antiche pietre venivano spaccate per realizzare questa struttura, struttura tipica medievale, se non addirittura romana, mi viene in mente la cubiglia, quindi potrebbe. Qui ecco, i resti dell'incendio di qualche anno fa, che ha distrutto le staccionate che contenevano i terrapieni, come documentari, come bimodo di documentare personalmente. Uno scenario veramente imperdibile qui a Castel San Pietro Romano, dove comunque è un luogo dove poter soggiornare di sere o di notte per fare delle riprese a lunga posa. Peccato che manchi un po' la mano dell'uomo qui per sistemare il viale. Guardate qui le rocce enormi che sono state messe qui come, vedete, come monumento addirittura. Questo era un antico masso di cui faceva parte del muro poligonale qui, che cingeva la città, l'antica città.